Come da noi anticipato, nel pomeriggio di ieri è stata raggiunta un'intesa di massima tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Strada dei Parchi su una bozza di piano economico e finanziario per la gestione di A24 e A25, che affronterà sia il tema tariffario che quello della sicurezza, con un'anticipazione a stralcio dei fondi necessari per finanziare gli interventi antisismici. Nell'emore dell'approvazione del Cipe, prorogato di un mese al 1 agosto, il blocco delle tariffe dei pedaggi. Nonostante una frenata nella serata di ieri, oggi, nell'ultimo incontro iniziato alle 13, dovrebbero essere limati i residui punti controversi e probabilmente verrà allungata la proroga oltre il 1 agosto. Verrà comunque messa una nota ufficiale. In costante contatto con il tavolo, il presidente della regione Marco Marsilio. Ho sentito appunto il capo di gabinetto del Ministero, mi ha relazionato dell'incontro che il Ministero ha avuto con Strada dei Parchi. Dal Ministero arrivano, come dire, segnali incoraggianti e ottimistici rispetto alla definizione positiva, quantomeno di un'ulteriore fase di proroga, tempo utile per chiudere la trattativa sul piano economico-finanziario, quindi non ho motivo di ritenere il contrario. Naturalmente mi attendo che il Ministero mantenga questo impegno e che l'ottimismo sia poi dimostrato nei fatti. E in un forum a Radio Coro sulle 24 ore, Marsilio è stato molto meno tenero su altri fronti verso il governo. Deluso dall'esito dello sblocca cantieri, il governatore che ha visto arrivare molto meno delle aspettative annunciate dal sottosegretario Crimi, il quale aveva promesso 350 tecnici per i comuni e gli uffici speciali, invece ne sono arrivati soltanto 200. Sulla ricostruzione privata, delusa la richiesta di eliminare anche nei comuni fuori cratere l'impedimento del contributo in caso di lieve difformità edilizia. Preoccupazione anche sulle infrastrutture, 600 milioni di investimenti ANAS della Regione, di cui solo una piccola parte è stata impegnata, mentre Ferrovia ha circa un miliardo di investimenti, ancora lontani dalla realizzazione. Servono in oltre 200 milioni per la competitività del sistema portuale. Infine, Marsilio è escluso di poter essere indicato quale commissario straordinario per il sistema Gran Sasso.